in aria cross radente gol ruba palla e doria entra in aria fucilata gol autogol in questo caso di me con doria grande movimento in aria parabola interessante ecco doria per vatrella vatrella gol il montepaone risponde sonoramente al fronti vince 4-0 contro il san gregorio di pona e torna capolista mister pisano è stata una partita intensa dove il risultato forse non dice tutto riguardo alla forza di quello che è stato il san gregorio di pona vinta tatticamente perché mi è sembrato ci fosse un movimento al centro del centrocampo che era stato ragionato in allenamento sono d'accordo con te sulla prima parte ovviamente per quanto riguarda il san gregorio perché secondo me è stata una partita molto difficile noi lo sapevamo eravamo pronti ad affrontare una squadra molto molto forte che l'anno scorso vorrei ricordare che ha fatti i playoff e che quest'anno si è rinforzata quindi in ogni caso bene ben allenata da pieno alessandro quindi noi eravamo molto preoccupati per questa partita io l'avevo detto ai ragazzi e non è assolutamente il 4-0 non rispecchia assolutamente l'andamento della gara sono d'accordo con te è stata molto più equilibrata di quello che non dica il punteggio per quanto riguarda i cambi si prova a tirare l'acqua al proprio umilino quindi ci si lavora in settimane si fanno queste queste prove che a volte vanno bene a volte vanno male oggi è andata bene quindi noi che siamo apprendisti tecnici abbiamo visto bene che c'era un giocatore davanti alla difesa che a volte era mellace a volte era altro che poi in in escava gli attaccanti diciamo che abbiamo abbiamo spostato qualcosina perché differentemente da quanto mi aspettavo loro si sono messi in campo in modo differente quindi abbiamo dovuto variare alcune cose che avevamo già preparato in settimana sono riuscite soprattutto poco prima proprio di passare in vantaggio quindi sono molto contento per questo i ragazzi hanno fatto un'altra l'ennesima grande prova di carattere e di gioco e la nostra strada deve essere questo dobbiamo noi non rispondiamo a nessuno non è che abbiamo risposto al fronte noi pensiamo ad andare avanti per la nostra strada e pensiamo a giocare bene a calcio poi se siamo se ci riusciamo e siamo contentissimi se non ci riusciamo facciamo i complimenti agli avversari che sono stati più bravi e oggi abbiamo avuto un grande avversario davanti una tiratina di orecchi ai raccattapalle tanto vivaci che è stato l'unico momento della partita caratterizzata dal fair play dove si è acceso qualche animo sì no i ragazzi purtroppo è normale noi abbiamo messo qualche ragazzo qualche bambino della scuola calcio dietro le porte per raccogliere i palloni e per nello stesso tempo per divertirsi in campo vedendo giocare i grandi pensiamo che sia questa una cosa importante per tutti i bambini ovviamente ogni tanto scappa che qualcuno si mette a andare è normale l'abbiamo fatto tutti e quindi ogni tanto ed è arrivata una palla durante un'azione in campo ma niente di che voglio dire tutto rientrato subito perché si è capito che si parlava e si trattava di bambini molto piccoli ed eccoci ora col tecnico del san gregorio ippona mister pino alessandro mister dicevamo con mister pisano che forse il risultato è troppo pesante magari il monte paone meritava ma 4 a 0 non c'è perché il san gregorio è stata una squadra che si è battuta fino all'ultimo va credo proprio di sì credo che per buoni 70 minuti stata una partita che ha viaggiato sostanzialmente sul sull'equilibrio che io che si sono affrontate due squadre che hanno una tipologia di gioco sostanzialmente diversa con caratteristiche diverse sapevamo che il monte paone una squadra che molto manovriera che comincia la costruzione della manovra da dietro però credo che li abbiamo tamponati benissimo per gran parte della partita c'è molto ramarico soprattutto per il fatto che nel primo tempo in particolare abbiamo avuto direi diverse occasioni per prima sbloccare il risultato poi per venire al pareggio e purtroppo l'abbiamo fatto è normale che poi sul 2 a 0 oltretutto nato su una palla in uscita nostra persa loro sono stati bravissimi a attaccare gli spazi a trovare il secondo gol lì ovviamente poi la partita è cambiata totalmente perché ci siamo ulteriormente allungati prestando un po il fianco a una squadra come il monte paone che è bravissima ad attaccare gli spazi di conseguenza abbiamo subito il terzo e poi il quarto gol direi un po che forse almeno su tre dei quattro gol c'è stata direi parecchia di concentrazione da parte di qualche mio giocatore perché erano abbastanza evitabili quindi c'è sicuramente del rammarico per un risultato che come diceva lei magari sì alla fine la vittoria ci può anche stare ma che con un po di attenzione in più credo che per gran parte della partita il risultato di parità fosse quello più che rispecchiasse di più una partita a scacchi tra due allenatori che sicuramente forse sono di categoria superiore ma ci spiega la mossa di marino che in pratica io l'ho visto mi scusi se sbaglio all'attacco nel primo tempo e più arretrato nel secondo tant'è vero che ha fatto anche l'autogol no l'autogol ha fatto garofalo centrale hanno aggiorniamo i tabellini centrale difesa marino invece è quello che in uscita ha recuperato palla e noi sapevamo che abbiamo preparato la partita su alcuni concetti sapendo che il monte parola è una squadra che alza molto i suoi effettivi soprattutto gli esterni bassi per cui eravamo preparati ad andare ad attaccare subito gli esterni e soprattutto sulle palle recuperate lì c'è stata una situazione di palla recuperata proprio marino doveva subito andare a verticalizzare cosa che non ha fatto portando invece palla in maniera molto ingenua poi persa e di di conseguenza abbiamo dato un po' il fianco alla loro ripartenza alto la mossa di abbassare marino era semplicemente perché siamo passati da un 4 3 1 2 a un 4 4 2 per cercare di attaccarli più sugli esterni e ci stavamo anche riuscendo a un certo punto della partita è chiaro che poi ripeto una volta preso il secondo gol è normale che i tatticismi lasciano un po' il tempo che trovano che trovano